L'amministrazione si intitola second body ma anche second skin come seconda pelle o secondo corpo in quanto unire fibre naturali come può essere fibre di canapa, di seta, di lana merinos tutte fibre organiche che ricordano sicuramente storie femminili antiche per cui mi porto dietro tutta la memoria di molte generazioni questo è un abito ma in senso metaforico come abito il mio corpo è un abito che non può essere indossato ma che ricorda un corpo è un corpo efibero ma di luce più e questa caduta nel vuoto di questo corpo viene sicuramente alleviata la sofferenza perché l'abito esce dal buio grazie alla trazione della luce la luce come risoluzione della sofferenza della caduta di questo corpo che non c'è più grazie a tutti